violenta risse in strada a roma ieri nel primo pomeriggio quattro i feriti tra cui uno investito da una persona fuggita a bordo di un'auto è accaduto intorno alle 13 in via tiberina zona prima porta alla periferia della capitale sul posto i carabinieri della compagnia cassia in seguito alla segnalazione arrivata al 2 112 da chiarire i motivi della vite scoppiata tra cittadini romeni che si sono colpiti anche con mazze identificate quattro persone ferite che non in pericolo di vita sono state trasportate in ospedale in codice rosso per dinamica dopo la rissa due persone si sarebbero date alla fuga a bordo di altrettante auto una delle quali avrebbe anche investito un 63 nero o meno tra i quattro feriti soccorsi